Siamo tutti per partire cammina italiana Siamo tutti per partire cammina italiana Risorpasso di Serenelli Allora ragazzi, fanno un colpo incredibile Attenzione È praticamente incollato Colpo di incollato a Serenelli Dimutri volta a Serenelli Nel momento ancora 7.000 di sorpasso sono praticamente attaccati l'uno all'altro Torinelli, Consoli, sorpasso sorpasso di Consoli su Cesare Torinelli Arenda, Arenda su Torinelli Sì, Sì, Sì Sì, 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 Sì Sì, Sì Sir, Sì, 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 Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.